ciao sono appena uscita di casa sono le 5 e mezza del pomeriggio fa un freddo cane siamo a meno 11 temperatura normale e percepita circa meno 22 fa veramente freddissimo e allora volevo raccontarvi proprio come si fa a sopravvivere a un freddo così e come ci si deve vestire la cosa più importante è vestitevi sempre sempre a strati non pensate mai di mettervi un maglione troppo pesante perché quando si entra nei locali poi fa veramente fa veramente caldo nei locali quindi il mio consiglio è vestitevi a strati magliettina sotto maglietta sopra maglione giacchetta e giacchettona questa è la cosa principale sempre cappello copri orecchie sciarpa e se ce l'avete un cappuccio come quello che ho io è ancora meglio per il resto si sopporta si va avanti grazie a dio è un freddo secco non umido però purtroppo c'è spesso il vento è un bambino Grazie.